App Toscana Salute. Tutte le informazioni sulla tua salute sempre aggiornate e disponibili. Scaricala da App Store o Play Store. Leggi la guida per scoprire le funzioni della app. Oppure salta la guida e associa la tua identità digitale con Speed o leggendo il QR code generato con la tessera sanitaria sui totem.si che trovi nelle farmacie, negli ospedali e nei distretti sanitari. Con Toscana Salute hai tutto a portata di smartphone. Per esempio, puoi consultare i referti radiologici e di laboratorio, scegliere il medico di famiglia, prenotare prestazioni specialistiche tramite CUP, le analisi del sangue e altri servizi digitali attraverso Zero Code. Dalla funzione Delege puoi accedere al fascicolo sanitario dei tuoi figli minori, delle persone di cui sei tutore o che ti hanno delegato e delegare una persona di fiducia alla consultazione del tuo fascicolo. Toscana Salute. La tua salute sempre aggiornata e disponibile per una sanità 100% digitale.